Alessandro Bonato Buongiorno Alessandro, come stai? Buongiorno, ciao Ettore. Benissimo, sono qua a casa. Sei a casa, tutto bene, anch'io a casa, si lavora da casa, si continua a lavorare da casa. Allora, benvenuto al nostro ormai quarto AMC Artist Talk, dopo Gianandrea Noseda, Aleftina Ioffe, Daniele Rustioni. È oggi la volta di Alessandro Bonato, che è il nostro ultimo arrivato, non per importanza, ma cronologicamente. E anche il più giovane di tutti, perché tu hai, ricordacelo? 25 anni. 25 anni, quindi è un'età, una bella età per incominciare a lavorare seriamente nel mondo della musica. Io a quest'età ho cominciato a lavorare con, proprio quest'età, con Daniele Rustioni. Poco più tardi, con Gianandrea Noseda. E mi piace l'idea di poter fare insieme un percorso di crescita, che poi è una crescita comune, perché non pensare che anch'io, che ho 56 anni, non cresca costantemente in rapporto a quello che gli artisti mi insegnano e mi danno. Allora, ti ricordo le regole d'ingaggio, come si dice. Cioè, abbiamo circa 30 minuti, ma insomma possiamo arrivare fino a 35. Quindi abbiamo una serie di domande che sono piuttosto standard e che dobbiamo gestire tutte quante. Quindi io sarò un po' il tuo, non solo chi ti fa le domande, ma anche il tuo guardiano. E quando vai lungo, come si dice, ti inviterò a concludere. Ok. Allora, come sempre, noi cominciamo questa chiacchierata proprio dall'inizio. Cioè, dal tuo background familiare. Cioè, nella famiglia avevi musicisti, hai avuto persone che ti hanno in qualche modo indirizzato. Oppure la passione per la musica è nata come una cosa assolutamente indipendente? Guarda, Ettore, i miei genitori non sono assolutamente musicisti e nemmeno appassionati di musica, per cui non ho mai respirato musica specialmente classica a casa. Io ho cominciato ad appassionarmi alla musica classica alle scuole elementari perché la mia maestra di storia e geografia durante i compiti in classe aveva l'abitudine di farci ascoltare le stagioni di Rivaldi, i concerti di corelli, insomma, metteva come sottofondo la musica classica. E io mi ero talmente innamorato di questa bellissima musica, in particolare delle stagioni di Rivaldi, che ho detto anche un giorno vorrei saperle suonare. Ed è per quello che ho cominciato a studiare il violino fin da piccolo. Quindi ecco, questo è importante. Quando è che hai cominciato a immaginare di diventare un musicista? Quando è che hai avuto in mano il tuo primo strumento? A dieci anni ho avuto il mio primo violino e già anche la mia prima bacchettina perché mi avevano regalato le sinfonie di Beethoven e io con la matita, insomma, battevo il tempo, facevo le cose. Mi piaceva molto seguire la musica. Ma ho avuto solo un piccolo caso di musica nella mia vita che poi non è stato poi così piccolo. Cioè mio nonno, a 17 anni, suonava in una band, in una rock band e un giorno fece, sai quando le band dei giovani ragazzi aprono i concerti delle band un pochino più importanti. Fece questo concerto comune con un'altra band che all'epoca non era praticamente nemmeno conosciuta ed erano i Nomadi. Lui aprì il concerto dei Nomadi, ormai 40, forse 45 anni fa e dopo fece un incidente, quindi dovette smettere di suonare. Ah sì, perché ormai la storia del rock, anche la storia del rock ormai è storia antica, no? Quindi quando si dice ti piace la musica dei vecchi, quando guardi Rolling Stones e vedi un signore di 70 anni dici, beh, anche quella in fondo è musica per vecchi, no? E pensa che mio nonno, che ovviamente come tutti gli uomini di una volta non faceva, diciamo, le scuole alte, insomma andare all'università, all'epoca, eccetera, era qualcosa di davvero scolastico. Destinato a un elite, certo. Esatto. E lui lavorava, aveva 11 anni e mi raccontava che c'era questa signora sempre vestita bene, sempre agghindata, con le acconciature che abitava in Corso Porta Nuova qui a Verona all'epoca che gli chiedeva se poteva portarle su la spesa. La signora faceva la spesa, lui era un giovane ragazzo, gliela portava su per la mancia, famosa mancia, lui, questa signora molto educata, e poi mi disse che era Maria Callas, lei ha abitato qua per tanti anni, a Verona. Ah, pensa. Lui portava la spesa a Maria Callas, allora io un giorno gli chiesi scusami ma non potevi farti fare un autografo? Farti dare una fotografia? Esatto, lui mi ha detto guarda, a me interessavano le 10.000 lire di mancia perché in effetti era molto generosa. E questi sono... Vabbè, quindi insomma è un contatto di famiglia in qualche modo con una grandissima, forse la più grande cantante della storia della lirica, almeno da quando ci sono dei documenti che si possono ascoltare. E invece, ecco, quindi il tuo primo strumento è stato il violino, giusto? Sì. Il violino. Hai studiato il violino e poi a un certo punto ti sei detto ma forse vorrei fare il direttore d'orchestra. Quando è che è successo questo? Ma è una situazione un po' strana, vedrai che farà ridere. Io a 15 anni mi iscrissi a un corso di ballo, danze caraibiche, latinoamericano, che lo sognavo da tutta la vita ma non ero mai riuscito a farlo. E in questo corso conobbi una persona che mi disse che faceva il direttore d'orchestra. E a me la cosa mi stuzzicò molto, mi invitò a vedere un suo concerto e rimasi folgorato da questa figura del direttore d'orchestra. E chi era questo signore? Questo era Vittorio Bresciani, che fu, tra l'altro, il mio primo maestro, che all'epoca era vice direttore del Conservatorio di Verona, dove io studiavo. Mi ricordo che un giorno ci incontrammo in corridoio e io gli dissi, ma tu cosa ci fai qua? Mi fa, ah guarda, io sarei vice direttore. Ah però. E tu cosa ci fai qua? Eh, io studio violino. Ma dai, allora, lì abbiamo cominciato a parlare e fu lì che gli chiesi, guarda, io vorrei diventare un direttore d'orchestra, mi piace, se per piacere mi puoi insegnare. Ora, come tu sai, a 15 anni dire di fare direttore d'orchestra è come dire, vorrei fare l'astronauta o andare sulla Luna. Per cui, all'inizio, insomma, nessuno credette in me. Devo dire, all'inizio nemmeno i miei genitori, ma coseno di poi gli posso dar ragione. Nel senso che, ok, studia prima il violino, studia prima la musica e dopo forse puoi pensare di fare il direttore. In realtà era un sogno che io avevo proprio tantissimo e ho lottato tantissimo per riuscire a fare della mia passione un lavoro. E quindi da lì cominciai, a 15 anni, ad avere i primi rudimenti della tecnica, della direzione d'orchestra e ad assimilare sempre quanta più musica possibile. Quindi possiamo dire che Bresciani è stato il tuo primo insegnante, giusto, di direzione d'orchestra? Quello che ti ha proprio insegnato i rudimenti. Sì, è stato il primo proprio a credere che io un giorno avrei potuto forse diventare un direttore d'orchestra. E chi sono stati gli altri? Ma il mio maestro su tutti io lo considero Piercarlo Orizio. Orizio è stata, diciamo, la persona che più in assoluto ha creduto in me in tutti questi anni, che mi ha insegnato la musica e che soprattutto mi ha aperto gli orizzonti alla musica internazionale. Lui, essendo direttore artistico di uno dei festival più importanti del mondo... Certo, ricordiamo che Piercarlo Orizio è direttore artistico del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, che ha una storia illustrissima e che ogni anno vede la presenza dei più grandi artisti internazionali. Io ho conosciuto Piercarlo in Conservatorio a Verona perché lui insegnava lì esercitazioni orchestrali nel 2013 e dal 2013 ad oggi ho sentito e ascoltato tutte le più grandi orchestre del mondo con tantissimi dei più grandi musicisti. Perché io a 18 anni avevo già sentito, conosciuto e parlato con violinisti del calibro di Uto Ugi, Shlomo Mintz, Salvatore Accardo, Vadim Repin. Insomma, li avevo sentiti tutti. Avevo parlato con loro. Poi Piercarlo è una persona molto generosa. Mi portava a cena con loro, me li faceva conoscere. Quindi avevi occasione di parlare con loro, di scambiare idee con loro, di vedere come si comportavano. Ho potuto parlare con il maestro Muti, ho potuto parlare con il maestro Gatti, con Temir Kanov, con Pletniov. Insomma, ho conosciuto tantissimi musicisti. Sì, sì. Il Gotad, insomma, musicale, internazionale. Ma quando è che è stato il momento in cui tu hai detto, hai capito in qualche modo che potevi fare di questa grande passione una professione, un modo anche per vivere, per crescere e per svilupparti? Guarda, nel 2016 sono stato invitato da Umberto Fanni alla Royal Opera House Muscat a fare un'opera, un progetto là e ho compiuto 21 anni là, in teatro. E quella, diciamo, è stata la prima avvisaglia del fatto che forse avrei potuto fare il direttore d'orchestra. Dopo di questo è seguito un periodo un po' di buio, insomma, un po' di sconforto. Sai, io non mi vergogno assolutamente a dirlo. Vengo da una famiglia modesta. Perché devi vergognarti? Ognuno viene dalla famiglia che ha. Sì, ma diciamo modesta solo dal punto di vista economico, ma non dal punto di vista dei sentimenti. Questa è la cosa importante. Bene, fantastico. Per cui mi sono dovuto arrangiare. Io ho lavorato, ho fatto il cameriere, ho fatto il venditore porta a porta. Insomma, studiavo e lavoravo contemporaneamente perché da quando ho 19 anni sono fuori casa, per cui ho dovuto veramente impegnarmi, lavorare. E a un certo punto ho cercato un po' un riscatto nei confronti di me stesso con il concorso che tu sai. La Malco Competition per me è stata, diciamo, un punto di svolto. Esatto, perché nel 2018 è arrivato questo momento che ha un po', possiamo dire, insomma, cambiato la tua vita e che è stato il concorso, la Malco Competition, che si svolge ogni due anni, se ben ricordo. Ogni tre anni. Addirittura ogni tre anni a Copenhagen e che è uno dei grandi concorsi internazionali di direttori d'orchestra con il quale si ha l'opportunità di dirigere la niente po' po' di meno che la Danish National Symphony Orchestra, che è una delle grandi orchestri europee, in una bellissima sala, la sala da concerti nuova di Jean Nouvel a Copenhagen, insomma, in un contesto veramente emozionante, veramente motivante. Ecco, che è successo? Che cosa è successo a Copenhagen? Ma sì, è successo che io mi sono iscritto così quasi per gioco, perché volevo capire se effettivamente ero sulla strada giusta. Perché nella mia vita, purtroppo, ho sempre voluto fare le cose al meglio. Se mi rendo conto di avere un limite o di non riuscire a fare una cosa come dovrebbe essere fatta, preferisco smettere e fare dell'altro. Perché dici purtroppo? Aspetta, perché dici purtroppo? Perché sono ambizioso, è vero? Sono una persona che non si accontenta, ma preferisco lasciare il posto a chi sa fare meglio di me piuttosto che improvvisarmi a fare qualche cosa che sono sicuro di non riuscire a fare. Ecco, questo è un'ottima base. Te lo posso dire. Faccio un concorso, vedo come va. Il caso ha voluto che nel 2018, essendo il primo anno in cui il maestro Fabio Luisi era il presidente della giuria, c'è stato un boom di iscritti. la volta precedente erano circa 300, 280, una cosa del genere. L'anno in cui l'ho fatto io eravamo quasi 600. Ah, però? Da 72 paesi, per cui tantissime persone, veramente con dei curriculum infiniti. Insomma, tutti veramente, ci tengo a dirlo, bravissimi direttori. Io, essere arrivato terzo in quell'anno specifico, per me è ancora più rilevante, perché i miei colleghi, non voglio dire i miei concorrenti, perché non lo erano di fatto. Erano veramente degli ottimi, ottimi musicisti. E quindi è arrivato. Sono stato selezionato tra questi 24, ho lasciato il lavoro, mi sono dedicato allo studio, mi sono licenziato, mi sono chiuso in casa da gennaio fino ad aprile, quando era ora di partire per Copenhagen. e l'hai partita un po' questa mia avventura, che poi mi ha portato a vincere, insomma, il terzo premio. La cosa bella che mi ha fatto diventare molto, come dice, felice, è il fatto che fossi l'unico italiano. E quindi ho un po' rappresentato il mio paese nel mio piccolo. Ecco, questa è una cosa che mi ha... Ma tu ti senti, in qualche modo, parte della grande scuola italiana di direzione d'orchestra, quindi? Ah beh, sì, assolutamente. Perché esiste una grande scuola italiana di direzione d'orchestra, devo dire, è una delle cose che, tutto sommato, mi rende personalmente più orgoglioso è quella, in fondo, di rappresentare praticamente quattro generazioni di direzioni d'orchestra, di direttori d'orchestra della grande scuola italiana, a partire da Donato Renzetti, poi Gianandrea Noseda, Daniele Rustrioni e adesso anche Alessandro Bonato. Quindi, e devo dire che effettivamente esiste, ne ha parlato nella sua conversazione da Gianandrea Noseda molto chiaramente una grande scuola di direzione d'orchestra italiana. Ecco, in che cosa consiste, secondo te, mi piace porti questa domanda, in che cosa consiste, secondo te, la scuola italiana di direzione d'orchestra? Perché è diversa da quella tedesca, da quella francese, da quella russa? Ma io credo che una grande componente della nostra scuola sia l'opera. L'opera, di fatto, è italiana e la direzione d'orchestra, che tra l'altro è un'invenzione molto recente, insomma, noi ne abbiamo parlato in altre chiacchierate che abbiamo fatto, insomma, il ruolo del maestro concertatore e direttore è una cosa che storicamente nasce per l'esigenza di mettere assieme molte compagini che, per la distanza, per la situazione, eccetera, era difficile che comunicassero fra di loro. Certo, col fatto che le orchestre diventavano gradualmente sempre più grandi e non bastava più il maestro al clavicembalo o il maestro al primo violino che desse gli attacchi, le opere diventavano con il concorso di sempre più persone, più cantanti, il coro, la banda, insomma, diventava impossibile e quindi, insomma, il ruolo del direttore d'orchestra diventava essenziale. Insomma, la storia ci dice che, insomma, uno dei primi grandi direttori d'orchestra è stato proprio Richard Wagner, cioè quello che poi ha scritto le opere e quindi se le dirigeva perché l'esigenza era fondamentale. Anche Verdi si doveva servire ovviamente di direttori d'orchestra perché senza di quelli la macchina non funzionava. Diciamo che il ruolo del direttore d'orchestra comincia a diventare rilevante e importante nel momento storico in cui non è più il compositore che dirige le proprie composizioni ma è qualcun altro che dirige le composizioni di qualcun altro. Certo. Questa è un po' la nascita del direttore d'orchestra. Certo. Cioè divento un mero interprete sostanzialmente. E quindi nella scuola italiana ecco, tu dici la componente operistica è quella fondamentale, cioè in che cosa consiste l'apporto dell'opera nella direzione d'orchestra? Che cosa secondo te è importante? Ma una cosa su tutte è la chiarezza della tecnica e del gesto. Il fatto di essere essere capiti da una persona che ti vende frontalmente, una persona che ti vede da lontano, una persona che ti vede da dietro lo schermo, una persona che non ti vede ma ti ascolta e basta. Quindi la chiarezza assoluta della tecnica, quindi con delle specifiche che sono sempre quelle, una specie di canone in cui essere capiti in tutto il mondo in tutti i luoghi in tutte le condizioni. Questa è la cosa importante e poi il gesto che comunque deve essere molto fluido anche perché con l'accompagnamento dei cantanti ovviamente il gesto deve essere molto morbido e molto fluido per riuscire ad amalgamarsi a un respiro. E anche una certa flessibilità è quello che si chiama il fraseggio cioè il fatto di respirare con i cantanti. Ecco, questa è una cosa fondamentale. È la cosa fondamentale. Ecco, sì, mi piace questa definizione devo dirti che l'asposo in pieno. L'asposo in pieno. All'interno di questo percorso c'è stato un momento in cui ti sei detto che forse diciamo un momento in cui hai avuto un dubbio dopo che tutto questo è incominciato o non hai più avuto dubbi dopo? Diciamo che il grande dubbio nella mia vita come ti dicevo ce l'ho avuto poco prima di fare il concorso. Io mi ricordo che dissi anche ai miei genitori guardate io faccio la Malco se va bene bene se no smetto vado a fare qualcos'altro. Bene quindi insomma è chiaro che è stato quello l'elemento decisivo. Adesso un'altra domanda che mi piace porre a tutti i miei interlocutori è riguarda il vostro processo di apprendimento perché penso che sia molto importante capire come un direttore d'orchestra affronta l'apprendimento di una partitura. Guarda io credo che come tutte le cose bisogna partire dal macroscopico per arrivare al microscopico e questo il mio maestro Piercarlo me l'ha sempre insegnato. È come quando si prende la patente io prima devo sapere in che direzione devo andare perché se vado contro mano posso anche sapere come funziona il freno ma sono sempre nella direzione sbagliata. Per cui io parto sempre parlo per me dal macroscopico cioè devo per dire dirigere una sinfonia di Beethoven ok allora intanto vado a vedere chi era Beethoven e per me questa è una cosa fondamentale cioè capire la vita del compositore ma non solo la vita in sé ma anche il periodo della sua vita in cui ha scritto quella determinata composizione perché può aver avuto dei processi che l'hanno portato a sentire delle emozioni diverse in un determinato periodo della sua vita e dopo a sentirne delle altre in un altro per cui capire il contesto storico politico culturale che c'era all'epoca quindi diciamo ovviamente gli aspetti gli aspetti ambientali gli aspetti della biografia del compositore trovi che siano importantissimi per capire il senso della partitura ma poi dal punto di vista tecnico come la affronti lo studio ma la prima cosa è l'analisi si parte diciamo dall'analisi almeno io parto dall'analisi strutturale quindi vado a vedere quanti sono i movimenti che tipo di movimenti sono se ci sono inversioni tra i vari movimenti dopodiché procedo a un'analisi un pochino più accurata che è l'analisi formale quindi vado a prendere ogni movimento e vedo com'è strutturato quindi comincio a scomporre in piccoli pezzi ogni movimento una volta che ho fatto questo vado a fare un'analisi ancora più approfondita che può essere l'analisi tematica l'analisi armonica e quindi vado a vedere i piccoli tassellini che compongono diciamo tutto il movimento chiaramente la cosa fondamentale è quella di sentire i suoni io suono tutto al pianoforte perché il pianoforte è lo strumento più immediato che ci permette di capire tutti i suoni e di andare ad analizzare accordo per accordo frase per frase però tu sei anche uno strumentista d'arco nato e cresciuto cioè sei un violinista anche quindi diciamo in che cosa è importante per te il fatto di avere competenza molto profonda su uno strumento come il violino nella direzione d'orchestra ma per me è importante perché purtroppo per fortuna il 70-80% di un'orchestra è formata da musicisti ad arco per cui parlare la loro lingua vuol dire sapere di che cosa di che cosa stiamo trattando per cui quando io vedo un'arcata o sento un suono cerco di sapere se l'arcata è corretta se la diteggiatura è corretta posso chiedere in che punto dell'arco voglio che suonino per avere un determinato effetto o che tipo di diteggiatura poi io avendo fatto anche degli studi diciamo filologici sulla musica antica con dei bravissimi insegnanti spesso vado con le arcate già fatte prese dai trattati per cui c'è una ricerca proprio quanto più accurata bene questo è molto interessante e un'altra domanda importante secondo me da fare un giovane editor d'orchestra è secondo te quanto è importante dirigere tante orchestre diverse all'inizio e perché lo è? ma per me non è importante è fondamentale è fondamentale perché sai gli antichi gli antichi maestri i vecchi maestri dicevano che si diventa direttori dopo i 50 anni prima si impara e basta e questo io credo che sia vero cioè ogni orchestra dove vado ogni musicista all'interno di quell'orchestra mi insegna qualche cosa se io faccio una che ne so la quarta la quarta di Tchaikovsky con la Danish National che abbiamo detto prima e c'è il solo dell'oboe io da quell'oboista lì posso imparare tantissimo perché io magari è la prima volta che dirigo quella sinfonia lui invece l'ha studiata all'esame l'ha suonata con altri 150 direttori meglio di me eccetera per cui lui mi sta dicendo come secondo lui va fatto quel solo ma allora ti sto seguendo e ti faccio una domanda fuori dall'abitudinario ma giustamente tu sei un giovane direttore quindi non è che faccio a te tutte le domande che faccio per esempio a Noseda allora qui ti dico ma come ti senti tu Alessandro Bonato a 25 anni davanti a un'orchestra di gente per il 90% se non per il 100% più vecchia di te che ha più esperienza di te che magari ne sa anche più di te non ti viene il dubbio ma io che cosa ci faccio qua ma perché questi devono stare a ascoltare uno come me ma infatti loro non devono ascoltare quel che dico io devo fare in modo che loro si fidino di quel che dico questa è la cosa è la cosa diversa io a 23 anni ho diretto la fila Monica della Scala quando sono quando sono entrato alla Scala tremavo sembrava che ero veramente non riuscivo a tenere la penna in mano perché la Scala è un sogno ovviamente per tutti ci vuole molta umiltà Ettore soprattutto per un giovane direttore ci vuole l'umiltà di dire io non vengo qua a insegnarvi qualche cosa io vengo qua a imparare qualche cosa e a portarvi la mia visione attuale della musica noi dobbiamo fare in modo che i musicisti si fidino di noi non che facciano quello che diciamo noi perché noi siamo i direttori perché sai io te l'ho detto tante volte io non comando l'orchestra io faccio musica con l'orchestra cioè noi senza l'orchestra siamo direttori di che cosa certo chiaro sì sì questo lo dice sempre Gianandrea io faccio andare le mani ma se sono se non c'è l'orchestra non succede niente non esce neanche un suono dalle mie mani loro si devono fidare si devono fidare di noi questa è la cosa mi piace mi piace questa definizione e quindi passo alla domanda successiva che però è molto legata a questa cioè quali sono i tuoi modelli come direttori d'orchestra che possono essere del presente ma anche del passato anche direttori che non ci sono più purtroppo io ho due grandi modelli nella mia vita il primo è Carlos Kleiber che ritengo che sia stato il più grande direttore in assoluto di sempre e perché? perché lui perché lui non faceva musica cioè lui era la musica quando tu lo vedi dirigere ha una naturalezza intanto sempre col sorriso questa è una cosa che mi piace tantissimo il fatto è che lui non subisse la musica ma la partecipasse in maniera attiva e gioiosa anche nel momento in cui la musica sembrava più tragica e più drammatica possibile poi aveva questo gesto che era di una bellezza tale che sembrava un pittore che disegnava in quel momento preciso la musica che andava a delineare questa lo trovo di una genialità forse non ancora del tutto compresa era talmente avanti talmente geniale che l'uomo che noi tutti dovremmo cambiare mestiere insomma se ci dovessimo paragonare a lui beh devo dirti un'esperienza personale è stato quando ho visto uno dei film che sono stati fatti su Carlos Kleiber molto belli un film bellissimo di 5-6 anni fa credo fatto da un produttore austriaco e questo film cominciava con le immagini della telecamera che punta al direttore d'orchestra e che quindi serve poi ai maestri che sono nel backstage e questa questa immagine e queste immagini ritraevano Kleiber che stava dirigendo il preludio di Tristano Isotta ed è proprio vero cioè c'erano dei suoni che non potevano uscire diversamente che da quel gesto perché il gesto era talmente evocativo e veramente era l'idea del gesto pittorico mi piace molto era come se il gesto disegnasse la musica per quanto fosse un gesto difficilissimo anche da seguire e l'altro esempio secondo te l'altro modello e l'altro per me è Nicolaus Arnon Kurt interessante un direttore molto controverso sì un altro genio genio assoluto Arnon Kurt Arnon Kurt sai io ritengo che il genio altri non sia che una persona che ha fatto in modo che la storia prendesse una via diversa se non fosse nato Clive probabilmente la musica non avrebbe seguito una determinata via se non fosse nato Arnon Kurt probabilmente la musica non avrebbe preso la strada che oggi sta percorrendo Arnon Kurt ha spaccato la musica ha spaccato la storia della musica e ne ha delineato una nuova via che poi hanno proseguito tutti i direttori che sono venuti dopo di lui che è l'attenzione filologica la coscienza filologica esatto lo studio la preparazione vera non soltanto quella pratica la riscoperta della musica cosiddetta autentica la musica antica la filologia e lui era un'altra persona di una umanità incredibile c'è la sua famosa frase che dice che se un musicista sbaglia io gli sono riconoscente perché vuol dire che ha fatto di tutto per fare una cosa che io gli ho chiesto bene bello bello mi piace molto bravo e che cosa che cosa è per te un compositore importante cioè che cosa fa per te l'importanza di un compositore e quindi qual è il tuo compositore preferito ma che cosa faccia un compositore tale da diventare famoso e importante questo non lo so nel senso che ci sono talmente tanti compositori che sono diventati importanti per cause diverse che io francamente non saprei qual è il canone per dire che un compositore è più importante o meno importante per noi verdi è un compositore importantissimo magari in Germania è considerato un compositore fra i tanti per loro Wagner potrebbe essere un compositore di riferimento per noi invece rimane un bravo compositore ma non ha la stessa portata di Rossini Puccini cioè io credo che l'importanza del compositore sia anche in base alla tradizione e alla storia che ha quel determinato paese bella risposta il tuo compositore preferito almeno al momento perché poi ovviamente i gusti cambiano ma io credo che Mozart dal mio punto di vista sia uno dei più grandi geni che abbiano mai soccato la nostra terra ma sono molto innamorato di Verdi sempre per il discorso che ti ho appena fatto cioè io mi sento italiano sono felice di essere italiano mi sento molto vicino alla mia storia alla mia tradizione è un coltivo un po' di quel patriotismo romantico verdiano che all'epoca c'era e che non vuol dire ovviamente anzi tu sai benissimo che io viaggio amo tutte le culture però credo che un po' di amore verso quel che siamo dato che noi siamo quello che siamo oggi solo perché qualcun altro è stato prima di noi per cui eppure all'interno di questo tuo percorso che devo dire essendo tu giovanissimo è ancora breve ci sono dei compositori che all'inizio non ti piacevano e dei quali dopo invece studiando ascoltando di più hai apprezzato l'importanza sì Mahler e perché all'inizio non ti piaceva? perché non riuscivo a capirlo trovo che sia musica difficile quella di Wagner musica difficilissima di Mahler parliamo di Mahler e ancora adesso non lo capisco non lo capisco fino in fondo sei troppo giovane sì no ma è musica è musica che angoscia un po' quella di Mahler riuscire a trovare la chiave di lettura giusta per la musica di Mahler io credo che sia difficile perché c'è una tale sofferenza dentro un tale senso di morte nella musica di Mahler che difficilmente forse si trova solo in Tchaikovsky quell'idea della morte e del destino bene bella risposta e la tua opera preferita in questo momento la sinfonia o l'opera lirica o il pezzo che ami di più in questo momento? ma sicuramente la non la sinfonia di Beethoven e perché? perché 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 mi smuove tutto tutte le corde possibili immaginabili anche se ti dico non la dirigerai assolutamente perché non la dirigeresti? perché non sono non sono ancora nelle condizioni di dirigerla credo che ci siano dei pezzi soprattutto per un giovane direttore che non vadano fatti parlo della Nona Sinfonia ma parlo anche del Requiem di Verdi parlo ci sono scusa del Requiem di Mozart ci sono alcuni brani che proprio ci vuole bisogna esserci passati bisogna avere qualche cosa da dire perché sono dei testamenti quelle opere lì è come fare la patetica di Tchaikovsky se una persona non ha mai visto la morte difficilmente può evocare quello che Tchaikovsky voleva dire con quella musica lì certo molto intenso molto intenso ovviamente per te a 25 anni all'inizio di questo percorso però è anche bello avere come vedo delle idee piuttosto chiare piuttosto chiare una certa una certa bella lucidità di approccio e la capacità ti ho fatto delle domande anche un po' provocanti provocatorie da un certo punto di vista per la tua giovane età e devo dirti bravo perché ti sai ti sai muovere molto bene all'interno di questo di questo percorso ma sai io trovo che sia solo una questione una questione di rispetto cioè di rispetto per la musica che hai davanti è come voler a tutti i costi fare l'interprete di una lingua di cui si conoscono solo cinque vocaboli rischi di non di non farne capire il senso corretto Riccardo Muti diceva che lui si è avvicinato alla nonna di Beethoven dopo i 40 anni diceva mi sono avvicinato molto vecchio ma proprio perché anche lui aveva rispetto per questa partitura io l'ho studiata tantissimo continuo a studiarla la sfoglio la leggo la suono ma non mi sentirei vuoi aspettare sì assolutamente bravo e invece diciamo ovviamente queste due ultime domande con le quali concludiamo la nostra chiacchierata hanno forse poco senso alla tua età ma in realtà io credo che invece un senso ce l'abbiano perché noi non sappiamo che cosa ci aspetta domani e quindi ogni momento secondo me è giusto per fare un certo tipo di riflessione ovvero se ti dicessero in questo momento Alessandro Bonato di 25 anni domani o diciamo tra una settimana è il tuo ultimo concerto dopo non puoi più dirigere cosa vorresti dirigere? è una bella domanda credo che per ricollegarmi alla domanda che ti ho fatto che ti ho fatto prima credo che il testamento di un grande direttore almeno storicamente è stato così sia proprio la nonna sinfonia di Beethoven e quindi dici anche se ho fatto poco voglio dirigere la nonna di Beethoven per far vedere qual è il mio testamento alla data di oggi il punto di arrivo è un'altra domanda che anche questa è ovviamente abbastanza paradossale però ti ripeto anche questa è paradossale fino a un certo punto perché secondo me uno incomincia a costruire la propria legacy cioè la propria memoria dal giorno in cui nasce se ha una certa mentalità quindi Alessandro Bonato oggi come vuole essere ricordato? cioè se dovessi morire in questo momento? Facciamo un sacco di corno ovviamente ma come fanno gli italiani ma come vorresti essere ricordato per quello che hai fatto? Ma io semplicemente vorrei essere ricordato come una persona che ha messo la propria anima nella musica anche sbagliando io non voglio essere ricordato come la persona che ha creato il più bel suono della storia o la persona che ha semplicemente vorrei essere ricordato come una persona che ha dedicato la propria vita alla musica con tutti i pro e i contro della della cosa della sfida bene Alessandro io ti ringrazio tantissimo è stata una bella chiacchierata anche io ho scoperto delle cose di te ti ringrazio tanto e ti faccio un sacco di auguri che in realtà faccio a tutti e due perché il tuo successo sarà anche il mio successo grazie a te ciao a tutti grazie a tutti